Sembra attacco ma non è, sembra andare, allegria! Ma mi chiamano Bianchetto, dove passo io cancello tutto. L'altro giorno un amico mio mi ha detto, oh, volemo andare a sciare, è pieno di neve, mamma mia! Dice, andiamo là che ci sta 100-120, non basta. Cambiamo campo, 180-190, non basta. Andiamo da là, ci stanno 200-250, non ha capito? Vengo solo sulla neve a sparare da chi i cannoni, non ha capito allora? C'è il segreto, guarda, è il bianco, tiè! Guarda, guarda qua, le braccia mia sono trattato su i fari imperiali. Niente, pure te stai, metteci l'or tabacco ogni tanto, pure te, eh? E da un po' di sapore, capito? No, basta. L'hanno fatto entra a gratis, oppure ha fatto... Qui stiamo tutti quanti al giorno a vedere il televisore, il televisore, le pubblicità. L'altro giorno mi sono fidato da quelli che dicono, prevenire è meglio che curare. Cazzo, sono un dentista. Mi ha levato un dente, un milione e mezzo. Mi ha detto, mo' mangi bene, no, mo' mangi bene i denti, ho più una lira, deficiente. Ma che è il segreto? Ma t'affida! Noi in Italia stiamo come la TAC, top al culo. E non c'è se poi... Noi guardamo la televisione e che ce vedemo? La Parini e la Parietti. Secondo voi che c'hanno un comune se due? Secondo voi che c'hanno un comune se due? Mettetele qua, parlate, no? Tutte e due usano il silicone. Vi ricordate a Parietti con chi era fidanzata, con Lambert, quello che ha fatto ai Lander? Lo ricordi? Quello che avevo facendo incazzato... Gli aveva la capoccia. Non si fa di niente, Rosy, chi è? Gli aveva la capoccia. Stava a fare l'amore che aveva Parietti sul letto. Gli ha acciucciato la tetta, gli ha scendere il silicone, gli ha incollato le labbra. Sei buono? La Marini ha fatto il firma a bambola. E c'è fai il firma, sei una bambola. Sette buchi in dita con lo spillo. E noi se guardiamo sti due con la bava la bocca senza pensare che uno si scoperebbe un flacone di Saratoga. Ma le rendi conto, non lo stiamo? Ce stanno a parlare... Vai, fallo. Ce stanno a parlare del giubileo. Se dobbiamo voler tutti bene, volemmo se bene. Dove? L'estate, vi ricordate? L'estate c'è stato qui i deficienti che andavano in giro per i boschi a dargli fuoco. Voi ricordate? Scusa, eh? Ma le bastardi, mi sono forti. Andavano in giro da fuoco ai boschi e dicevano, volemmo se bene. Ne hanno preso uno. Gli hanno detto, com'è che da fuoco ai boschi? Io le macchine le posso vedere. E mi ha detto a fuoco. Io a questo sa che avrei fatto. L'avrei preso. L'avrei corcato da botte. L'avrei legato sotto l'elicottero. Poi l'avrei portato sopra il bosco con fiamme. E poi gli avrei detto, oh, ciccio, mo' fare la pipì fino a che spegni tu tutto, bastardo. Te vanno a casa chi gli punti oggi. Ah, regà, ricordatevi. Come dice qui il giornale. Guarda che notizia. Chi fuma in compagnia, finisce subito. Chi fuma in compagnia, finisce subito. Chi fuma in compagnia, finisce subito. Chi fuma in compagnia. 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 Grazie a tutti.